ciao a tutti ragazzi questo è un altro video del The Shared Gaming, io sono Favij e qui con me abbiamo l'onnipresente Nicky Box non è vero, non è Nicky Box come no, vabbè sono IPUFFO lui è IPUFFO è il terzo membro del canale, il terzo fondatore del canale The Shared Gaming si incomodo lo scomodo del canale solo che non è ancora stato in un video perchè non c'ha voglia di fare nulla non è vero non mi avete detto niente ma a cagare siamo qui anche per dirvi che Nicky Box gli è morto il PC perchè boh doveva finire di vivere il PC di Nicky Box gli andava di morire è morto questa si che è una connessione vabbè comunque niente siamo qui perchè dobbiamo darvi alcune news un'ultima ora, c'è stata un'ultima ora in pratica io parto per le vacanze e dato che questi due Nicky Box e IPUFFO non hanno voglia di fare nulla non ci saranno più video per due settimane massimo perchè io sto via dieci giorni quindi niente abbiamo fatto questo video principalmente per dirvi che vado in vacanza sayonara no più che altro anche abbiamo fatto questo video perchè dovevo dovevo rispondere a alcune vostre domande e fare alcuni accertamenti comunque introduciamo un attimo la partita allora è un live ah questo è un live si siamo in live chiaramente si privata giusto per mettere qualcosa di background all'audio certo e niente niente vai vai tu di qualcosa non dire nulla come sempre non è vero con noi c'è anche un nostro amico che ha anche lui un canale si chiama Oling Game Sita iscrivetevi anche al suo iscrivetevi anche al suo canale se pensate che IPUFFO è un hacker di no se tu non sai giocare ma vai a cagare che ti ho preso anche col coltello cioè non ti ho preso ma si si guarda guarda va lì connessione connessione non so che bello vabbè di un po' le richieste che hanno fatto al canale adesso che mi riprendo allo shock emotivo le dico aspetta che niente niente boh dai adesso mi sono rotto le balle e vi faccio un cosi vai parla vabbè narraci cosa devi dire allora voglio dirvi principalmente principalmente cosa vi do dire principalmente delle cose no vabbè allora niente allora parla no in pratica ci sono state moltissime richieste da parte vostra su fate un commentary su diversi videogame tra cui tra cui IPUFFO è stronzo tra cui SACRED 2 Minecraft Oblivion Hello Kitty World of Warcraft ci avete linkato un casino di videogames da oh wallbang anche lo kitty anche lo kitty sì 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 da recensire da recensire da fare commentari sì chiaramente e vi volevo solo dire che cercheremo di accontentarvi tutti di fare più commentary possibile però il prossimo commentary lo volevamo dedicare a Minecraft perché abbiamo aperto un server apposta per introdurre Minecraft quindi il prossimo commentary sarà su Minecraft e poi quelli futuri vediamo abbiamo in mente di fare Oblivion perché uscirà Skirim che è il nuovo di Heartless Scrolls il 5 che uscirà l'11 11 e quindi niente faremo Oblivion su gameplay di Oblivion interrutteremo Skirim e poi niente appunto Minecraft poi si vedrà che cosa è successo? laggo laggo allaggato 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 la sta vangando ancora non molto no non molto ok sei riaddrizzato niente una botta di paura e panico però vabbè niente niente diciamo sì appunto ci accrevo di accontentarvi tutti con i commentari voi restate sempre presenti come se lo siete stati fino adesso tra l'altro vogliamo ringraziarvi delle mille visualizzazioni le visualizzazioni tantissimi mi piace continuo il continuo scusate l'italiano niente io proprio con l'italiano ci faccio il cazzotti dicevo è il video che abbiamo fatto dell'alpha di Battlefield 3 appunto ho avuto mille visualizzazioni e tantissimi mi piace ed è in continua crescita cioè stanno usando le visualizzazioni continuamente quindi e ciò ci commuove sì ci commuoviamo noi stiamo piangendo in questo momento non ci vedete vi ringraziamo veramente tantissimo per il successo che ci state facendo avere e il supporto e il supporto aereo AC100 sì tra l'altro è cambiata anche la descrizione del canale sì abbiamo aggiornato la descrizione con le caratteristiche del nostro computer e cosa abbiamo aggiunto? l'email l'email sì ecco appunto se volete dirci qualcosa mandarci un gameplay vostro che ci farebbe molto piacere oppure farci semplicemente le domande dirci qualcosa abbiamo messo ho creato l'email apposta per il canale che è thesharedgaming chiocciola gmail.com la trovate nella descrizione del canale e niente non mi pare l'olio che cosa è buo ma come caratteristiche gameplay se volete inviarci deve essere di qualsiasi console però registrato possibilmente in HD in HD esatto in HD perché siamo fissati con i video di qualità quindi almeno in HD deve essere registrazione se non avete un HD PVR per forza che è una scheda di acquisizione molto che costa parecchio diciamo non è proprio così economica se no se avete un pc buono registrate con si esatto esatto niente esci da lì niente niente io l'ho preso ma se volete inviarcelo cosa facciamo non è elencato cioè no no mettetelo mettetelo su mega upload è più veloce anche se lo mettete su youtube ci mettete un anno quindi mettetelo su qualsiasi cioè non so mega upload rapid share dove volete dove volete voi mandateci un commentary cioè no mandateci il gameplay e noi faremo il commentary ringraziandovi un messaggio personale magari e li metteremo in ordine esatto cioè in ordine di richiesta si poi vi ringrazierò chiaramente metteremo il link del vostro canale nella descrizione e faremo un po' di pubblicità chiaramente ovvio dai non girarti verso di me c'era lui che ti sta sparando in faccia è a me di uccidere però ho io sparato di beccato di beccato Domeiuk t'ho preso dove è oddio dai l'ultima che cerco di farla bella l'ultima trick 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 shop no no ma è che posso fare tanti trick shop però bocci provo allora vediamo un po' eh beh amica è difficile perché voi mi recuperate pure speciale non so se sentite la televisione perché c'è un tv attaccato con blue mountain state con blue mountain state non so se lo conoscete ma è qualcosa di epico blue mountain state spacca ragazzi soprattutto la sigla eh certo soprattutto la sigla non ci conoscete i miei video sapete di che parlo niente non ci siete spariti boh non mi trovo oddio che lagga 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 la rete sua è buonissima però dalle botte di lagga tremende no a volte solo oddio niente niente non riesco a fotto ero nel bel mezzo di un trick niente 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 ma dai sei penoso ma ti ho inseriti di me eh ma sfrutti la lagga per fottermi cioè sto facendo un trickshot assurdo e tu mi hai colpito certo guarda bellissima l'ultima io mi da un'ora che sono fermo bellissima certo non ci sei non ci siete voi non ci siete sì no perché oh niente ti sei ti sei spostato certo ma non ci credo ti sei spostato certo e devo rimanere lì a guardarti ma dai bella l'ultima sì no niente quindi credo che abbiamo finito le cose che dovevamo dirvi diciamo vi ringraziamo per tutto il successo che non ho parole non hai parole mi state facendo avere ma chi è che deve fare l'ultima top games ah Fabio fa la tipo bellissima 360 queste cose perché lui non ci può cioè ci può sentire ma non può parlare perché il commento tra l'altro abbiamo failato già due volte per il live sì sì certo miglia noi fai andiamo un casino di volte per il live niente ma vabbè questo è un altro fail ad esempio perché va lasciate stare alla fine arriveremo tutti a 19 tutti che devono farla kill bellissima ma veramente bella me ne manca una oddio che lag niente ragazzi ci sono dovete capirci ci sono tre botte su PC ci sono disti problemi cioè anche sulle console però sì sì anche sulle console però soprattutto sulle console oddio niente voi vi spostate boh di solito tu stai fermo un'ora lì ma ti sei spostato nooo va bene ragazzi il video di oggi il video di oggi finisce qui vi lasciamo con questa ripetata killcam vogliamo che merco testo schifo ho fatto un 360 hai visto il 360 sì la sensibilità troppo veloce vabbè comunque vi lasciamo niente questo è tutto lo vogliamo dirvi il video l'abbiamo fatto appunto perché volevamo aggiornarvi delle vacanze quindi per un paio di settimane non ci saranno i nostri video e boh niente tutto qua ci continuate comunque a stare sintonizzati perché a ritorno delle vacanze metteremo video nuovi pollice in su pollice in su il video mettete in preferiti iscrivetevi iscrivetevi al canale chiaramente andateci 100 euro andateci 100 euro niente dai iscrivetevi al canale questo ci basta ok oh dai ragazzi vi salutiamo qua a The Shadow Gaming è tutto ciao ciao ciao